Ci sembra giusto ed opportuno dare ampio risalto a quanto pubblicato dall'FC Crotone sul sito ufficiale. Pertanto vi leggiamo interamente il comunicato del patron Gianni Vrenna dal titolo Un piccolo gesto per non dimenticare, arricchito sul sito da numerose immagini. Da sempre sensibili e molto vicini al mondo del sociale della nostra provincia e attenti a quanto accade anche in tutto il territorio nazionale, dichiara Gianni Vrenna, non potevamo non dedicare la nostra attenzione ed il nostro particolare pensiero alla città di Livorno e soprattutto ai familiari delle 140 vittime a vent'anni dalla tragedia del traghetto Moby Prince. Tragedia per la quale purtroppo non è stata ancora fatta chiarezza, sapendo che 140 innocenti attendono che sia fatta giustizia. Ebbene, continua il patron, in occasione della gara che il Crotone disputerà venerdì 15 aprile a Livorno, da un'idea del capo ufficio stampa Francesco Biafora, abbiamo deciso di onorare la memoria di quanti persero la vita quella notte e di stare spiritualmente vicini alle loro famiglie, dedicando interamente per due giorni l'area foto della home page del nostro sito ufficiale alle vittime del tragico evento di quel 10 aprile del 1991. Un piccolo gesto, conclude Gianni Vrenna, che aiuta a non dimenticare, con la viva speranza che presto sia fatta luce su quanto accadde nel porto di Livorno, quel fatidico 10 aprile di vent'anni fa. A tutto l'FC, Crotone, i nostri complimenti per l'iniziativa intrapresa, sapendo, per quanto ci ha comunicato l'addetto stampa Biafora che anche il sito web della Lega di Serie B si è attivato per dare ancora maggior risalto a quanto pubblicato dal Crotone. Per quanto riguarda il calcio giocato, sappiamo che Belez, spulso con il Frosinone, dovrà saltare due gare, ma che rientreranno ad Armanforte e a Bruzzese Galardo. Mentre, per quanto riguarda la partenza per la Toscana, il gruppo la raggiungerà nella giornata di oggi, a cui si aggregherà Crescenzi, convocato da Ferrara per l'amichevole disputatasi ieri dall'Under 21 con la Russia. Passiamo all'Atletica Leggera. O tu sei sempre qui con i tuoi ragazzi a prepararli e a portarli a breve alla mezza per una gara importante? Sì, sì, un tempo era la scuola che dava gli atleti all'Atletica, adesso l'Atletica e degli atleti alla scuola, ma non voglio dire questo, c'è molto poco, qua la struttura non è anche completa al 40%, sì, abbiamo inaugurato i fari l'altra sera, ma ci dobbiamo mettere in testa che a Crotone si deve fare l'Atletica, perché non posso ogni settimana andare in giro per la Calabria per portare l'Atletica. Ti interrompo un attimo, Cipena, cosa ci vorrebbe per fare l'Atletica qui su questa pista? Una gabbia per i lanci, qua e poi vuole, fatto tutte le strisce del corsino, la tracciata e il cordolo, niente di... Ma per omologarla basterebbe solo questo? Sì, basterebbe solo questo, perché è impossibile che a Crotone dopo 40 anni non possiamo fare l'Atletica regionale. La gara che andrai a disputare alla mezza, quelli ragazzi interesseranno? Inizia dal 2003 fino ai Master, è una delle più belle gare che c'è in Calabria, ci sono circa 6.000 persone, qua a Crotone non riusciamo a organizzare ancora niente di queste gare, non c'è la cultura, la mentalità di organizzare, di fare una gara a buon livello e quindi io come ogni anno porto i ragazzi a fare questa bellissima gara. Con la speranza che in un prossimo futuro si possa anche gareggiare qui sulla nostra pista? Sì, ma se l'assessore allo sport si fa consultare di una persona che ha girato l'Italia, ha girato l'Europa per fare l'Atletica e per fare sport, magari può prenderne tesoro. Io ti ripeto, voglio... non lo biasimo, Claudio Molè sta facendo cose buone, però ti ripeto, questa è una lacuna che ancora dobbiamo colmare, l'Atletica è la regina di tutti i sport. Non rendere agibile questa struttura è un grande peccato, quindi lo prego caldamente di... Di darsi da fare. Di darsi da fare, sì. Bravo. Grazie. 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 Grazie.